C'è un po' del mio cuore, anche da ragazzino, perché sono stato sempre tifoso del Pescara. Detto questo, mi fa piacere rivederli in Serie A, però noi abbiamo l'obiettivo di portare a casa i tre punti, che è la cosa più importante in questo momento. Adesso la voluta ero oggi nell'elemento pomeridiano, vedrò un attimino di recuperare un po' tutti quanti, sperando anche di mettere all'interno dei convocati De Frel, che era quello un pochino più preoccupante. Per il resto i ragazzi penso che abbiano sbaltito al meglio la trasferta di Belgrado, anche dovuto al grandissimo entusiasmo che c'è in questo momento. Specialmente l'ultimo, in cui abbiamo veramente creato tanto e abbiamo portato, secondo me, potremmo anche vincere la partita. Detto questo perché io non mi accontento mai, però l'importante era passare il turno. Adesso le risposte le darà il campo, affronteremo una squadra che ha affrontato il Napoli anche in maniera spavalda, propositiva, mi è piaciuto l'atteggiamento del Pescara, è ovvio che lo saremo anche noi, cercheremo di fare la partita contro una squadra con giocatori qualitativi e brillanti. I presupposti ci sono, mi auguro che ci divertiamo più noi di loro. Berardi come tutti quanti gli altri, perché Domenico non gioca da solo, perché è assistito da un collettivo di alto livello che gli permette di potersi esprimere al meglio. Però io non posso stare a pensare troppo in avanti, devo guardare il presente, il presente dice Pescara. Vi assicuro che la mia testa non sta né ai gironi né ad altro, ma preparare al meglio questa gara, sono concentratissimo. Sorpreso no, però il fatto della mentalità di questa squadra, della preparazione della gara dove siamo cresciuti è una cosa che dobbiamo mantenere. Devo dire che a livello mentale, al di là dell'aspetto tecnico-tattico, questa squadra sta crescendo veramente tanto, ma deve continuare ancora il suo percorso. Devo dire che i nuovi sono anche facilitati dai giocatori che ho in campo, che sono molto bravi a farli interpretare al meglio quello che io gli chiedo. Poi quando dall'altra parte c'è disponibilità, tutto viene più facile anche all'allenatore.